In Italia, il mese di agosto è considerato almeno per la maggior parte delle persone il mese delle vacanze, il mese del riposo e del relax. Ma agosto è anche il mese di mezzo, il mese in cui appunto ancora è estate. Ma anche quel mese in cui soprattutto dalla seconda parte si comincia a pensare all'inverno, al ritorno a scuola o al lavoro. Insomma, è quel mese in cui si comincia a dire e pensare che l'estate sta per terminare. Durante questo mese ci sono sagre, festival e spettacoli all'aperto, si cena più tardi e si esce di più. E una delle ricorrenze più importanti è sicuramente il giorno di ferragosto, che è il 15 del mese. Ma quante cose sai sul ferragosto? Forse allora non sai che la data non è sempre stata il 15 e che anzi si tratta di una festività molto antica. Se sei curioso di saperne di più, continua a vedere questo video, ma prima ti chiedo un piccolo aiuto. Metti il video in pausa, iscriviti al canale e lascia un mi piace. In fondo è gratis, ma aiuterai a far crescere questo canale. Il termine ferragosto deriva da ferie augusti, il riposo di Augusto, in onore dell'imperatore Ottaviano Augusto da cui prende anche il nome del mese agosto. In realtà, dal 18 avanti Cristo, più che un giorno di festa in sé era un periodo di riposo e di festeggiamenti in onore del Dio Conso, protettore della fertilità e della terra, in cui si celebravano la fine dei lavori agricoli, e che andava dal primo agosto fino a una buona parte del mese. Con il cristianesimo, intorno al VII secolo tutto quel periodo venne assimilato nel solo giorno del 15 agosto, in cui venne istituita la festa dell'assunzione di Maria in cielo, ed infatti per la Chiesa il 15 agosto è una festa di precetto. Per quanto riguarda l'organizzare le feste e le gite così come le organizziamo noi, deriva dal regime fascista che nei giorni dal 13 al 15 agosto organizzavano gite popolari e offerte ferroviarie, per permettere di visitare le varie città italiane a tutti. Grazie per essere arrivato fino a qui. Quale di queste curiosità ti hanno colpito? Scrivilo nei commenti. E se ti è piaciuto questo video e hai scoperto qualcosa di nuovo, metti un mi piace, iscriviti e attiva la campanella per essere sempre aggiornato. Il mondo è pieno di curiosità. Scopriamole insieme.